Cari amici di Accesso Riservato, bentornati sul canale e buon 2023 a tutti, me compreso, visto che pure il mio inizio d'anno non è stato davvero ottimale. Il motivo ve lo spiego adesso, è una, diciamo, sorpresa molto amara che ho avuto tra il 31 di dicembre del 2022 e proprio l'inizio dell'anno. Questi ultimi 5 giorni sono stati infernali, ve lo racconto subito dopo la sigla! Allora, eccoci qua! Perché sono stati infernali questi 5 giorni? Semplicemente perché questo canale, quello da cui vi parlo, quello a cui spero siate iscritti e se non lo siete iscrivetevi subito, per me è molto importante, per voi è molto semplice, basta un clic. Se poi ci mettete pure un like e qualche commento sotto, siete assolutamente benvenuti e supportate gratuitamente questo canale. Detto ciò, torniamo al topic di questo video, vale a dire il fatto che il canale è tornato in mio possesso dopo 5-6 giorni, veramente molto molto difficili. 6 giorni in cui ho dovuto recuperare un account hackerato, quello di Google. Ora, come tutti sicuramente sapete, Google è tutto legato, nel senso che da Gmail a Drive a YouTube il passo è breve, nel senso che sono tutti i servizi che fanno parte dello stesso appunto account. Quindi se viene hackerato quello, viene hackerato un po' tutto. In questo caso, questo simpatico hacker ha deciso che aveva voglia di inserire dei video che non c'entrano in nulla con quelli che potete vedere su questo canale, che trattano soprattutto di musica o comunque di cose inerenti alle mie passioni, e ha caricato appunto dei video che hanno poi indotto YouTube stesso o comunque Google a buttare giù, a far andare in down questo canale. Quello che è successo dopo è però, ha dell'increscioso secondo me, nel senso che, e qua faccio anche un ragionamento insieme a voi, noi facilmente ci dedichiamo molto molto tempo ormai a servizi online che finché va tutto bene, anche nessun problema. La difficoltà subentra appunto quando bisogna entrare in contatto direttamente con una persona. E qui torniamo ad un discorso a me caro e vale a dire a quello dell'umanità contro dall'altra parte il virtuale. E questa situazione nello specifico è prova e riprova ulteriore del fatto che c'è uno scollamento fra questi due aspetti della realtà, ok? Anche perché dobbiamo ragionare sul fatto che si tratta di aspetti che riguardano qualsiasi tematica, musica compresa. Infatti oggi, come detto mille volte, ascoltiamo tutti il mercato, lo dice questo, le statistiche lo dicono anche della Fimi, ascoltiamo tutti molto di più online. Io però ero sempre la causa del fisico, in quanto ritengo che sia assolutamente la scelta migliore sotto tutti i profili, da un punto di vista qualitativo, ma soprattutto, e lo sottolineo soprattutto, dal punto di vista attitudinale e anche di quello che ci lascia e mi lascia l'ascolto fisico, che sia vinile, che sia cd o addirittura musica set. È un'opera d'arte completa in cui sono inseriti appunto anche i vari booklet, artwork e tutte le suggestioni che riguardano un lavoro completo. Detto ciò, ritorno all'accheraggio del mio canale, non dovete preoccuparvi in quanto utenti di questo canale, non c'è nessun tipo di problema, anzi vi chiederei un piccolo aiuto appunto supportandomi e diffondendo questo video per far sapere anche ad altri quello che è successo al sottoscritto, perché può succedere veramente a chiunque. Tra l'altro, negli stessi giorni, ho comunque saputo di più persone a cui varie tipologie di account, comprese anche non youtubeiche, ma instagrammi dintorni, meta, eccetera, sono state hackerate. Quindi non sono l'unico, però in questo caso diciamo il mal comune mezzo gaudio non è proprio che torni come tipo di concetto, in quanto vi assicuro che questi cinque giorni sono stati veramente molto difficili. Per fortuna non è stato tolto nessun video, li potete vedere ancora tutti, ancora tutti gli sforzi che ho profuso in questo canale, con tutte le interviste, gli approfondimenti, le top free, le potete ancora trovare. Quindi ok, siamo tutti molto contenti di questo, però vi chiederei appunto un supporto particolare in questo momento per farmi riprendere con maggiore enfasi e quindi anche avere da parte vostra un riscontro che mi possa aiutare anche appunto nel piccolo, semplicemente condividendo. Tornando all'accaraggio, questi cinque giorni ho potuto scoprire purtroppo che da parte di Google l'assistenza non è stata propriamente tempestiva, anche se poi a lungo andare, soprattutto dal momento in cui sono passato da Google America a Google Italia, le cose si sono facilitate molto. Tra l'altro ringrazio Mauro, non so se mi sta vedendo ma penso proprio di no, che è colui con cui ho parlato appunto per l'assistenza. Per quanto riguarda appunto il discorso a caraggio, mi sono dovuto addirittura reiscrivere a Twitter per poter dialogare con il team YouTube che non ha, cioè che ha risposto subito in maniera, diciamo così, tempestiva, ma mi pareva di parlare con un bot, probabilmente è così, in quanto anche ad alcune domande o meglio alcune risposte che mi erano state date e che mi riportavano a link che poi non mi servivano effettivamente per entrare nell'account, in quanto era un account di fatto compromesso, tra l'altro l'ultimo dell'anno del 2022, mi erano state cambiate tutte le credenziali interne, non potevo, era come avere le chiavi della macchina dentro la macchina e non poter appunto più accedere. Questo chiaramente è stato difficile da affrontare, così come è stato difficile da affrontare la tempistica molto lenta nel raggiungimento appunto di questo risultato e quindi della possibilità di parlarvi di nuovo anche attraverso il mio canale. Dopo tutto questo processo molto lungo di domanda risposta, domanda risposta, tra l'altro contemporaneamente su due canali diversi o anche tre, perché oltre ad essere entrato in contatto col team YouTube su Twitter, poi sono entrato in contatto col team YouTube su Google, poi col team Google e così via, vi risparmio diciamo tutte le specifiche relative, sta di fatto che continuavano a darmi dei suggerimenti che in realtà mi riportavano a situazioni di blocco, quindi io non riuscivo più ad entrare. Ho speso veramente tante ore, quindi questo vi invito anche, diciamo così, i vertici di queste società online a facilitare la vita agli utenti, perché come voi siete testimoni, questo canale è aperto ormai da un po' di tempo, tutto il lavoro che viene fatto è un lavoro che non solo non ottiene magari un riscontro alto in termini economici, ma proprio nel momento in cui viene perso, però chiaramente è un problema, ed è un problema grosso, quindi ecco, questo è tutto per il momento, io spero in questo 2023 di potervi fornire molti contenuti anche migliori sotto tutti i punti di vista, se avete dei consigli sono benvenuti, ben accetti, commentate pure qui sotto, se avete richieste o altro potete farle, vi ricordo che questo canale è strettamente legato con accesso riservato, il mio blog dove faccio recensioni e interviste, potete richiederle anche scrivendo la mail artcornermusicchiocciolagmail.com trovate tutto qui sotto, così come trovate il link al mio negozio di Skogs. Ciao a tutti, grazie, evviva, è tornato il canale!